Tu hai messo in città mia figlia senza chiedere il permesso Ma è consensiente il suo figlio Uffa papà per quale motivo dobbiamo pulire la stanza di croco e non può pulire lui E' un strumento saluto Cristian Monfredi, Alice De Monte e The Jacker66 Se volete essere solo attenti dobbiamo trovare questo pappacchino rosso Io solo trovo tre persone nel prossimo video ma soprattutto arriviamo per questo video i 15.000 like Perché lui è ospite e bisogna prendi queste cose Ok abbiamo finito Sì credo di aver finito Ah finalmente ce ne andiamo Comunque dobbiamo pulire la camera di sense No col cavolo vado a buttare la spazzatura Spicerino e vabbè poi vedi che dobbiamo pulire la camera di sense Sì 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 Oh sciavoletta per quale motivo questo pappi non vuole fare mai nulla Vabbè comunque davvero dobbiamo pulire la camera di sense che schifo Ah finito Ok perfetto adesso andiamo a pulire la camera di sense Ah no col cavolo te lo scordi No no Spicerino dai sul serio No te lo scordi ciao papà No Spicerino fai come vuoi Ah me la vado a pulire da solo camera di sense Grazie per sempre per avermi aiutato Spicerino E chi è Olve Cercherei Dolcetta Ah eh sì Ok Va bene arrivo subito Va bene ringrazio Che diavolo perché c'è un poliziotto Oh sciapolette Dolcetta Dolcetta C'è un poliziotto sotto Davanti all'entrata Che cavolo sta accadendo Che cos'hai fatto Dolcetto sciapolette Io te l'avevo detto Di non mettere a vendere Quei cavoli di detersivi Su internet Lo sapevo che rilegare e vendere robe Su internet Oh Cara figlia mia Cosa cara figlia Cosa Oh quanto tempo Quanto tempo Ah Fammi un po' entrare Ma Dolcetta Chi è questo tipo? Eh Io sono Il suo ragazzo Tom Sei il suo ragazzo Sì Sì Sono il suo ragazzo Dai eh Lei Io sono il padre Sono Orward Ah Piacere di conoscerla Orward Sì piacere anche mio Possiamo andarci a sedere? Sì sì Prego prego Si segga qua No Dammi del tu Dammi del tu Comunque da quant'è che Voi stati insieme? Eh Da un bel po' in realtà Tipo da Non lo so Un annetto Tipo un 5 mesi Non lo so onestamente Oh non sai Vabbè comunque Sì dolcetta Preferisco Un caffè Grazie Eh vabbè comunque Allora Detto fra di noi Io sono un poliziotto Dunque Vedi di stare attento a mia figlia Perché gli ultimi ex Sono stati veramente disastrosi per lei Va bene? Sì 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 Non si preoccupi Perché altrimenti Non sai cosa potrebbe succedere Ecco Vedi questa pistola Ecco Questa pistola Sono un poliziotto Non so se ne è bene Perché Sì sono un poliziotto Insomma Quindi hai capito bene? Sì 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 No non si preoccupi Non si preoccupi Tella Punto dritto In faccia Capito giovanotto? No Sì 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 Assolutamente sì Allora Ah eccola qua Perfetto Ti ringrazio tantissimo Allora Vabbè Comunque Sì voi che cosa fate in questa casa? Cioè nel senso è molto grande Tipo ci sta più una famiglia qua Eh beh perché appunto abbiamo dei figli Cosa avete dei figli? Tu hai messo in citta mia figlia Senza tenere il permesso No no Aspetta aspetta un attimo Non spari Oh perché non dovrei sparare? Hai messo in citta mia figlia Oh Ma è consensiente Sua figlia No Ma c'è uno che è consensiente Oh sei consensiente? Sì Che consensiente Va bene Questa volta hai vinto Tu Speravo molto di utilizzare Questa pistola oggi No no Non si preoccupi Non lo utilizzerà Perché io sono tipo per bene Oh va bene Io spero che almeno Siano molto rispettosi Sui figli Sì 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 Lo so Non so ne come Lui è Sbisarino Oh Sbisarino eh Oh Ma chi è questo? Questo è tuo nonno È il papà di Dolcetta Oh Oh mio Dio Non ci posso credere Oh Salve Oh Ma Oh mio Dio Che bei paffi Oh Ti ringrazio Questa è una pistola Posso prenderla? Oh Sì certo No Sbisarino Attento Eh papà tranquillo Dove Non stiamo Stiamo tranquillo A salvo Oh che figata Vabbè Sono felice Che ti piace Oh Beh Ecco qua Vabbè In effetti sì Nostro figlio è molto molto Bello e bravo Ah La ringrazio Cioè ti ringrazio Adesso ti faccio vedere Nostra figlia Oh Pure una figlia adesso Ma Vediamo un po' Ma dov'è Dove si trova? Ah Sono qua Oh Oh mio Dio Oh Ma in alto Ma no 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 Lei è mio figlio Oh Ok Pensavo fosse un ragno Oh ciao Oh ma tu sei bruttissimo Oh come ti permetti? Oh vai via Della cameraria Vai via Ehi Ma come cavolo Può parlare Al quale tenere Soprattutto come si permette Di insultarmi Non lo so neanche io Adolcina Sono simpatiche Pochissime persone in realtà Oh capisco Capisco molto bene Beh qua è praticamente Dove lavoro Io faccio lo youtuber Oh tu fai lo youtuber Quindi non lavori No io la vo Faccio lo youtuber Oh ma ma Lavori a casa? Sì lavoro a casa Allora non la vuoi Ma no se lavori a casa Lavoro Oh sì ok come no Va bene questi lavori finti Mentre poi Oh cos'è questo? Cos'è questo? No 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 Lui è l'acqua Pappagallo Ti la prego Non faccia niente Oh pappagallo Sì va bene Mi conosco questi esseri Va bene Poi da questa parte Va bene Non c'è niente Inutile salire anche Come non c'è niente? Aspetta cosa nascondi? Nascondi qualcosa? Stai nascondendo qualcosa? No assolutamente Cioè non c'è proprio niente Oh invece io salgo comunque No 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 Cioè nel senso Oh Lo sapevo Lo sapevo No cosa sapeva? Che stai nascondendo il niente Oh Oh Scusa a volte mi prendono Questi attacchi di panico Ah Non si preoccupi Vabbè comunque Beh sì Praticamente questa è casa mia Veramente Sono molto Sono messo davvero sorpreso A parte per la vostra figlia Che è veramente maleducata Dovreste I condi Educarla Ma comunque dov'è il bagno? Eh da quella parte Oh va bene La figlia Oh sciapoletta Dolcetta È un po' assurdo tuo padre Però a volte gli prendono Degli attacchi di panico Incredibili Però dai è simpatico Oh sciapoletta Ah sciapoletta Ah sciapoletta Ah sciapoletta Ah sciapoletta Come sta tutto bene Ah sei tutto bene Noob Vai via Vai via noob No devo andare in bagno Il mio bagno è rotto Quindi devo venire dal mostro No 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 Noob Oh ma ancora ci va Tu qua Ah 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 Aiuto Ah 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 Un poliziotto maniaco Ah ah Io ti sparo Giuro che lo sparo No 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 Lui è noob È normale che sia così disagiato Oh ok ho capito Li conosco questi tipi C'è il suo agente Un gizio Al poliziotto Nel quartiere generale Oh sciapoletta Noob Ah Sono andato Sì se n'è andato Per quel motivo sei entrato Perché dovevo andare in bagno Sbretto Se l'unico è vicino a me Ma c'è anche chi nomi Ma chi non mi sembra Che si spoggiucca con riccio Vabbè qua ti posso dare ragione Va bene Ciao noob Oh mio dio Casino dietro casino Ma come cavolo si può fare Evidentemente È qualcosa che davvero Non Dove cavolo sono andati Sono andati sotto Oh sciapoletta Sì 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 Sono andati sotto Sono andati sotto Sciapolette 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 Oh sì Beh Comunque veramente Che bella la cucina Davvero ci sto un sacco Nel senso Complimentoni a voi Vedo che YouTube Buoga bene Beh in realtà Ho rubato un tempo L'hai rubato? No nel senso Oh E tu chi sei? No lui è Spark Lui è Spark Non le spari Non gli spari Oh sì sì No no tranquillo Mi piacciono un sacco Gli animali Mi piacciono davvero un sacco Però Mi piacciono di più I barboncini No 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 La prega Non gli spari Non gli spari No vabbè Dai sto scherzando A me piacciono i miei Cagnolini Però I più piccoli No 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 Oh mamma mia Quanto è bello Prenderti in giro Sfisa Ma cosa? Oh vabbè Comunque davvero Io adesso devo andare Credo che il mio servizio Stia per iniziare Comunque a proposito di servizio Lo sapevate che Io ho servizio qua adesso Oh che davvero Sul serio? Sì io ho servizio qua Quindi dolcetta sono vicino a te Comunque tu vada Beh non c'è bisogno Ci sono io a proteggere Oh sì Va bene Questo è davvero Comica Svriser Va bene comunque Arrivederci Arrivederci signor Harward Dolcetta ma che cavolo Ehi tu Cosa stai facendo qua Io sto Stavo passando di qua No davvero Stavi rubando la tua macchia A terra No davvero Stavo passando di qua No tu stavi rubando la tua macchia No dove cavolo ti permetti No 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 Lui è in pro È bravissimo È buonissimo È simpatico Oh sì va bene Tutto quello che vuoi Però le persone Quando mi stanno chiamate Che devono soffrire Vai via Oh aiuto Arrivederci Arrivederci Oh sciaboletta dolcetta Tuo padre davvero strano Sei andata di sopra Oh no Beh Oh mio dio Ok Va bene Questa è parecchio strana Questa situazione Comunque io dovrei effettivamente Pulire Camera di senso Oh che puzza Ma cavolo è Sens Specialmente Dove è Piggy Ma dove sono andati Sens Grucco e Piggy Non so dove sono andati Però Evidentemente Saranno in giro Oh sciaboletta Che puzza No no Non riesco a pulirla Oh sciaboletta Oh sciaboletta Ma questo è un ragno Che schifo Ok Oh mio dio Che fettore Che però c'è nella stalla di Piggy No 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 Dammi la scopa di nuovo Che mi serve Guarda Guarda queste 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 carote Tutte morsicate Scadute sicuramente Deve andare a buttare Sciabolette No 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 Le appoggiate qua Oh mio dio Oh vabbè Comunque Ragazzi Io spero che il video Ti sia piaciuto È davvero È stato un parecchio strano Questo episodio Perché semplicemente Il padre di dolcetto È un poliziotto Tra l'altro Anche strano Molto strano Non è molto normale Comunque sapete cosa Essendo che ho pulito Appena adesso Stanza di sense Meglio che Butto anche la scopa Perché tanto non sarebbe Questa scopa Ormai è distrutta Ok Va bene Non ci vediamo In prossimo video E nulla Scrivetemi Commentate Ma soprattutto Seguivetemi su Instagram E se avete trovato Il pappagalino rosso Mi raccomando Scrivetelo A costruito I commenti In minuto Esatto Ma soprattutto Se Che dire Lasciate like Arriviamo a 15.000 like Ci si becca Scrivetevi al nostro canale